I carabinieri della stazione di Sortino hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 49 anni per coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico i militari, a seguito di una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo nel pieno centro abitato Ibleo, hanno rinvenuto all'interno di una camera dell'appartamento una coltivazione indoor di sostanza stupefacente tipo cannabis. L'arrestato aveva preparato di tutto punto la sua serra con un sofisticato impianto di illuminazione, un termometro digitale per monitorare il giusto tasso di umidità e la temperatura locale, un climatizzatore e due ventilatori per favorire l'area e azione, che però non era riuscito a impedire che il forte odore delle piante si sentisse anche dalla strada. In particolare aveva utilizzato circa 20 lampade ultravioletti per accelerare la crescita delle 41 piantine di marijuana che erano piantate in altrettanti vasi e altre 15 piantine che erano in fase di crescita, poiché alte circa 15 centimetri per un peso complessivo di circa 7 kg. Tutto il sistema elettrico e di illuminazione era stato fissato a delle reti da letto, sorrette da un'impalcatura di tubi innocenti che sostenevano la serra. Quanto rinvenuto è stato sequestrato ed è stata effettuata la campionatura della sostanza che sarà inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti per stabilirne la tossicità. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo come disposto dall'autorità giudiziaria Retusea.